Ciao a tutti carissimi amici, ben ritrovati. Oggi vi presenterò un disegno che per me ha un significato particolare. Lo dedico alle mie figlie. Guardatelo e scoprirete come l'ho realizzato e come ho strutturato il disegno in sé. Vi ringrazio perché mi seguite. Spero che continuate ad essere sempre di più. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete solo pollici in su. Mettete solo like, pollici in giù non ne vogliamo. Ne vi aspetto numerosi. Al prossimo video. Ciao. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.